Luglio 2019, Costa Smeralda, due ragazze denunciano uno stupro, ma gli accusati dicono che il rapporto è stato consensiente. Per la procura le indagini non confermano la violenza e per questo chiede l'archiviazione. Le ragazze si oppongono, vogliono andare a processo. Dov'è la verità? Massimo Giletti conduce Speciale non è l'arena. Martedì 3 agosto alle 21.15 sulla 7.